Dopo Bettini, dopo Orlando, sono arrivate diverse le approvazioni comunque per il suo ruolo verso una possibile candidatura, verso il segretario del PD. Io intanto sono già molto onorato perché chi come me è cresciuto a pane politica, essere solo nei nomi papabili è già una grande soddisfazione del frutto del lavoro di questi anni e anche credo di una linea politica che stiamo tenendo, siamo tra i pochi che hanno preso sul serio la Costituente. Stiamo girando l'Italia in lungo e in largo, in quella provincia italiana che ci ha voltato le spalle negli ultimi dieci anni e abbiamo proposto già dieci punti che mettono al centro il riscatto sociale, un nuovo modello di sviluppo e l'abbiamo fatto anche dicendo chi secondo noi dobbiamo rappresentare, cioè chi soffre, il lavoro e chi rischia per creare lavoro e coloro che si battono per salvare il pianeta. Quindi abbiamo dato un contributo tematico molto importante, ci ha aperto una discussione e gli apprestamenti che abbiamo avuto sono molto importanti. Poi per le candidature ufficiali ancora c'è tempo, vediamo come evolve la situazione nelle prossime settimane. Giorgio Tornati questa mattina era in una conferenza a Pesaro, ha detto che si rischia però con l'idea del PD di spostarsi sempre più verso sinistra di snaturare un po' il senso e il valore della fondazione del PD del 2007-2008. Si può andare verso quel rischio e quel pericolo? Dobbiamo essere molto attenti perché in questo momento il PD sta subendo un opo ostile, da una parte il terzo polo o dall'altra i 5 stelle. Quindi questo deve essere il momento giusto nel quale noi dobbiamo definire la nostra linea. Io penso che dobbiamo tenere la barra più a sinistra perché noi abbiamo perso i ceti popolari e quindi quei ceti popolari che magari a Pesaro mi hanno votato, ma che a livello nazionale non votano il PD. È un centro-sinistra che non rappresenta i ceti popolari, è un centro-sinistra che non ha futuro. Dall'altra però il partito si governa sempre dal centro del partito stesso e dobbiamo avere ben chiaro il valore dell'unità. Per questo sono anche un po' preoccupato di questo congresso. Non deve essere un congresso che divarica, deve essere un congresso che definisce una linea chiara, ma pur salvaguardando l'unità che è un valore fondamentale, soprattutto in un momento come questo. Quindi questo è il contributo che stiamo dando, speriamo di dire la nostra, però ecco dal punto di vista personale dei tanti amministratori che mi hanno accompagnato in questi due mesi c'è già una grande soddisfazione per avere in qualche modo inciso nella discussione e al tempo stesso dato un contributo di prospettiva. Vedremo.